Un percorso di crescita impressionante che in pochi mesi ha consentito ai baby pallavolisti biancorossi di tagliare traguardi importanti. Su tutti la qualificazione alle imminenti finali nazionali giovanili da parte dell'Under 15 che dal 7 al 12 giugno si contenderà insieme ad altre 27 squadre il titolo italiano di categoria. Il settore giovanile della Gasseis Blue Energy Volley Piacenza guidato dal tecnico Renato Barbon sta compiendo passi da gigante. Il lavoro è iniziato a settembre come ben si sapeva già quello che abbiamo trovato qui era i ruderi di un qualcosa che doveva nascere che doveva essere costruito e piano piano abbiamo costruito quello che è accaduto cioè nel senso che partita dopo partita periodo per periodo torneo dopo torneo siamo riusciti a chiamare una piccola impresa perché in effetti nessuno se l'aspettava io per primo. Come si crea un settore giovanile di livello gettando le basi per quello che sarà poi il futuro? Ci vogliono anni 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 stiamo seminando stiamo seminando in fretta questo è vero abbiamo raggiunto un risultato che probabilmente nessuno si aspettava io per primo però partiamo da questa da questa situazione vantaggiosa diciamo così per velocizzare quello che stiamo quello che la società diciamo così vuole 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 raggiungere è stato un percorso diciamo così di piccole di piccole crescite di piccole di piccole soddisfazioni di lavori perché bisogna anche elogiare qualche non tutti ma qualche ragazzo che per quattro ore più volte la settimana ripeto quattro ore al giorno si fermava in palestra per recuperare il tempo perduto rispetto al mondo della realtà guardando ancora un po più in là per il prossimo anno quali sono gli obiettivi ma stiamo allestendo questa foresteria stiamo la stiamo riempendo un po alla volta abbiamo i nominativi ormai diciamo che una quindicina di nominativi le abbiamo il problema più grosso secondo me è un po la reticenza o il territorio un po resti io a certe società che sono un po perplese o non dico che facciano ostruzione però io da quarantennale esperienza dico se un ragazzo ha dei margini di crescita potenziali per essere un giocatore di medio alto livello gli deve essere concessa la possibilità grazie a tutti grazie a tutti